La pratica di assurance prevede la revisione del report da parte di un soggetto terzo indipendente per garantire che il documento sia redatto secondo gli standard selezionati e che non contenga gravi errori. La natura non obbligatoria della revisione sul report di sostenibilità e il perimetro di rendicontazione così ampio e suscettibile di valutazione soggettiva hanno fatto sì che nel contesto si sviluppasse una formula di revisione limitata. Ai principali soggetti che offrono servizi di assurance si è risalito tramite l'analisi dei report pubblicati dalle società quotate nel Fuzzi Midtel. L'attività di questi soggetti si può far risalire a due categorie principali. La pratica di revisione per quanto riguarda i servizi effettuati dalle cosiddette Big Four, PwC, KPMG, Ernest & Young e Deloitte. Mentre nel caso delle altre società si può fare riferimento alla pratica della certificazione di qualità.